Comunque bellissimo sto effetto, sembra che faccio proprio il lato chiaro e il lato scuro, quindi va bene così. Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi è un video un po' diverso dal solito perché voglio parlarvi di un film che ho visto un paio di giorni fa. Il film in questione è Star Wars Episodio 8, Gli Ultimi Jedi, e ne parlerò in maniera abbastanza positiva perché il film mi ha colpito parecchio. Questo video lo dividirò in due parti. Una prima parte senza assolutamente spoiler e una seconda parte con gli spoiler. Quando partono gli spoiler non preoccupatevi che vi ho visto e quindi potete direttamente chiudere il video se non avete ancora visto il film. Parliamo di Star Wars Episodio 8. Effettivamente ragazzi il film mi ha colpito rispetto all'Episodio 7, anche se l'hypera un po' di meno rispetto sia a Episodio 7 che per quanto riguarda Rogue One, che è un film che a parer mio è piaciuto perché comunque dà un approfondimento in più sulla saga. Parlando comunque di Episodio 8 ragazzi, il regista Ryan Johnson, un regista che comunque ha fatto non troppi film, quindi diciamo che tra virgolette era ancora le prime armi, però ragazzi vi devo dire che ha fatto davvero un grandissimo lavoro con l'Episodio 8. Io penso sempre che in ogni film la trama debba svilupparsi a metà film, la stessa cosa che ha fatto Ryan Johnson. La maggior parte della trama della nuova trilogia si sviluppa in Episodio 8 e ci sono davvero tantissime cose, tantissime scene che mi hanno colpito. Principalmente però mi hanno colpito la caratterizzazione di alcuni personaggi. Uno tra tanti, ragazzi, non me l'aspettavo, io ho qualcosina già intuivo, però Kaido Ren è stato curato in una maniera assurda. Per non parlare ovviamente di Luke Skywalker, ovvero il grandissimo genio, perché per me è un genio, Mark Hamill, che ha trovato il suo giusto spazio all'interno di questo film. Poi per quanto riguarda gli altri protagonisti, giustamente li vedremo quasi tutti, tranne ovviamente Harrison Ford, che sappiamo la fine che ha fatto in Episodio 7, però ragazzi devo dire che è un film fatto davvero davvero molto bene, una sceneggiatura scritta bene, i dialoghi mi sono piaciuti e non, potevano curarli un po' di più, però ragazzi la cosa che mi ha colpito tantissimo è finalmente vedere tante, tante, tante battaglie stellari, non per questo il film si chiama Star Wars, quindi deve avere un motivo, quindi ci devono essere per forza le battaglie nella Galassia, quindi qui ce ne sanno davvero parecchie, gli effetti speciali ovviamente, ragazzi, che ne parliamo a fare? Comunque si sta parlando di Star Wars, per quanto riguarda la colonna sonora, secondo me merita tantissimi Oscar, ma già quelle precedenti, però per quanto riguarda giustamente il film, in sé per sé, mi è piaciuto tantissimo, non ci sono parti dove ci si può annoiare, ci sono alcune battutine che molti associano alla Disney, dicendo che comunque Disney ha fatto una cosa più per bambini, tante, altro che ci sono queste battutine che servono a spezzare un po' la monotonia del film, quindi giustamente se ti inizia da annoiare, esce questa battuta che ti fa riprendere e quindi ti fa continuare a guardare il film ed apprezzarlo per quello che è. Come stavo dicendo di queste battute, molti hanno dato la colpa a Disney, dicendo che Disney comunque sta facendo un prodotto per le famiglie, quindi non vedono più il classico Star Wars della prima trilogia, anche se comunque nella prima trilogia io non vedevo schizzi di sangue, anzi un amico mio me l'ha fatto notare, quando le spade laser taglievano braccia e gli arti delle persone, comunque non si vede, cioè la ferita si cauterizzava quasi subito, quindi non ci vedo nulla di strano nell'aggiungere qualche battutina, però giustamente ci deve sempre essere il fan che, sapendo che Disney ha a comprare i diritti di Star Wars, quindi non è Disney che ha ordine su tutto, cioè la storia di Star Wars è già scritta da un certo George Lucas, quindi quello che penso io è che sono molti fan delle vecchie trilogie che danno la colpa a Disney per alcune cose che ha messo nell'episodio 7 e in Rogue One e per qualcosa che hanno messo anche in questo episodio 8. A parer mio, raga, un episodio fatto davvero bene, c'è l'aiuto di Benise Guglielmo del Toro, infatti uno dei due fa una parte abbastanza divertente che mi è piaciuta tantissimo, anche se si è vista per pochissimo tempo, mi aspettavo, e questo forse devo rimproverarlo a Ryan Johnson, qualcosina in più sulla storia di Snoke, farci capire un po' effettivamente chi è questo personaggio, da dove viene, però devo dire che nel complesso sono stati caratterizzati molto bene tutti i personaggi, quindi per quanto riguarda le battaglie stellari, non ne parliamo, soprattutto Poe Dameron, raga, che ha avuto un crescendo in questo film a parer mio incredibile, e quindi raga, per quanto riguarda la parte tecnica, questa è, ora ci sarà la parte spoiler. Ecco, partiamo subito con la parte spoiler, perché molti si sono lamentati del fatto che quando attaccano la nave, la plancia di comando dove c'è la principessa Leia, lei viene sbattuta fuori nello spazio, quindi sta per morire, ma utilizza la forza per ritornare all'interno della nave, e molti hanno criticato questa cosa. Io vorrei ricordare a questi molti che comunque la principessa Leia è pur sempre sorella di Luke, figlia di Anakin Skywalker, quindi come è nel padre e nel figlio c'è forza, ce l'ha anche la principessa Leia, ovviamente non si manifesta sempre il potere della forza in lei, si manifesta giustamente quando tipo sta per perdere la vita, comunque non è una cosa nuova, comunque è una cosa che bene o male si sapeva, anche se molti nella sala si sono lamentati dicendo, sì vabbè com'è che può farlo, però se sei fan della saga comunque te ne rendi conto. Un'altra scena molto particolare, questa scena riguarda Kylo Ren, raga, perché lui in effetti nel primo film, cioè nell'episodio 7, molti gli hanno contestato, infatti un amico mio mi ha fatto ridere quando l'ha detto, che era la groupie di Lord Vader. E bene o male, raga, nell'episodio 7 si vedeva questa cosa di Kylo Ren, però io pensai all'epoca, secondo me è un personaggio che non è ancora stato sviluppato del tutto, è lo sviluppo, vero e proprio si vede in questo episodio, perché Kylo Ren finalmente caccia, tra virgolette, le palle, e raga veramente fa delle cose assurde, cioè quando prima Kylo Ren lo vedevano come un bamboccio messo là gli ordini di Snoke, adesso in questo film non possono dire più nulla perché Kylo Ren si è evoluto in una cosa incredibile, soprattutto quando uccide Snoke, lo fa in una maniera incredibile, nel senso che Snoke ha questa spada laser di Luke che ce l'ha a fianco, lui con solo la forza del pensiero riesce a girare e attivare la spada laser per ucciderlo, cioè lui comunque riesce ad uccidere Snoke, riesce a mettersi sopra a colui che lo comandava, quindi comunque lui in questo film è consapevole del potere che ha, mentre nell'altro film non sapeva ancora se sceglierà bene e male, in questo film comunque si vede una incredibile distinzione che fa comunque Kylo Ren e quindi sceglie di far parte del lato scuro, ma sceglie anche di non essere un Sith e di togliere da mezzo i Jedi, che secondo lui vuole fare un nuovo ordine dove non si parli né più di Sith né di Jedi. Ci sono dei richiami particolari anche alle vecchie trilogie, uno, ne prendo due in esempio, il primo è quando Reduit 2 fa vedere a Luke il vecchio messaggio della principessa Leia dell'episodio 4, e un altro richiamo che per me raga mi ha fatto bene i brividi è quando Luke sta per fare una cosa che va in virgolette compro i Jedi e gli appare come fantasma della forza il maestro Yoda, nella sua versione però della prima trilogia, nella versione pupazzosa diciamo, non quella tridimensionale che poi hanno dato nei primi tre episodi, quindi è una cosa davvero molto bella. Mark Hamill raga è stato curato in una maniera assurda, molti gli hanno detto che è diventato un bimbo minchia facendo quelle battutine che secondo a molte persone non servono a nulla, però secondo me ha dato la giusta vena un po' ironica del film anche, e l'unico che poteva farlo in questo caso raga era Mark Hamill, come protagonista si è visto, come Luke Skywalker si è visto parecchio, e devo dire raga che non mi è dispiaciuto affatto quando mi hanno fatto lo spoiler Luke muore, in realtà Luke non muore, ma entra a far parte della forza, ovviamente non voglio stare qua a spiegarvi, per filo e per segno, cosa significa, però chi è fan di Star Wars come me sicuramente lo capisce, mi è piaciuto tantissimo il rapporto che ha Luke con la forza, perché quando Rey va a trovarlo sull'isola, Luke non vuole addestrarla, lui sta vivendo normalmente e Rey si accorge che non utilizza più la forza, anche per i trascorsi che ci sono stati tra lui e che Lorraine, che bene o male si approfondiscono in questo film, e alla fine quando lui decide di utilizzare la forza, lo fa in maniera tale che supera persino il padre, perché lui riesce a creare uno spirito della forza, che è in un'altra galassia proprio, cioè lui sta in quest'isola tipo mi diranno come uno fa yoga per esempio, riesce a fronteggiare Kylo Ren in una versione comunque di spirito della forza, ed è una cosa incredibile, perché comunque non si è mai visto, quindi questo è il fatto. Come film Star Wars episodio 8, secondo me ha superato l'episodio 7, è Rogue One che mi hanno colpito entrambi parecchio, è un film che rispecchia perfettamente lo spirito di Star Wars, Rian Johnson per me ha fatto un ottimo lavoro, per quanto riguarda anche Lucas, perché comunque alla fine è sempre lui che scrive la storia, poi se qualcuno vuole modificarlo lui fa più che altro un... chiamiamolo supervisore, però devo dire che come film l'hai ben fatto e mi ha colpito parecchio, ho colpito parecchio tantissime altre persone. Per quanto riguarda la principessa Leia, a quanto pare rimarrà sempre nel film, hanno fatto un ottimo lavoro in computer grafica, anche perché comunque dato che Carrie Fisher non c'è più, non ho dovuto per forza arrangiarsi in questo modo, l'hanno fatto davvero molto bene. Per quanto riguarda altri personaggi, posso dirvi che Podemeron mi ha colpito, perché da capitano comunque vuole cercare di scavalcare il generale e i generali, quindi cerca di fare un po' le cose di testa sua, e a volte vanno bene. Finn ovviamente sembra che stesse per diventare un eroe, ma ancora no, quindi non è stato visto parecchio. Diciamo che il film si è incentrato più su le battaglie che ci stanno tra la resistenza e l'impero, cosa ovviamente in cui si doveva concentrare. Per quanto riguarda il complesso, raga, io darei un voto 8 su 10, anche perché è un film veramente ben fatto, a livello tecnico non c'è nulla da dire, a livello di sceneggiatura e personaggi, c'è qualcosina che mi aspettavo in più, soprattutto Snoke che è comparso, se non nel film, 10 minuti, e ha fatto una fine un po' a cazzo di cane, proprio, detto proprio così. Quindi raga, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, scrivetemi quello che ne pensate nei commenti, se la pensate come me e tant'altro. Noi raga, spero che questo video vi sia piaciuto, come ho detto prima, lasciate un like, condividete, e noi casomai ci vediamo al prossimo video.